Percelli sta che è consapevole che l'ultima partita è stata una partita brutta, il passato lo lasciamo alle spalle, ci insegna che guardiamo la partita di domani, che è una partita bella da giocare, contro la squadra sulla carta, a detta dei lavori, la squadra più forte è il girone, oggi la classifica dice che è vicino a noi, quindi sarà una bella partita dove chiaramente faremo di tutto per poterla vincere. Mi aspetto comunque una partita di calcio, una di quelle partite che in questo campionato sono belle da giocare, perché comunque affrontiamo una squadra che anche lei ha una storia, anche se non uguale alla nostra, però è una storia importante, per lo meno negli ultimi anni, negli ultimi vent'anni, una squadra che era stata costruita per vincere, è tutt'ora lì che si può giocare qualcosa e quindi insomma la soddisfazione ha maggior ragione, non vediamo l'ora di giocare. L'importante è che pensiamo a noi, pensiamo a quello che dobbiamo fare noi e poi chiaramente ci sono gli avversari, quello che fa la Cremonese sicuramente c'è una pressione per quello che, come è stata costruita, le ambizioni che avevano, è normale che sono un attimino attardati a quella che è la situazione alla nostra, una situazione simile ma un pochettino diversa ed è chiaro che a prescindere da tutte queste cose poi è sempre il campo, queste sono tutte cose teoriche, poi è sempre il campo a dire che domani si affrontano due squadre a prescindere che cercano qualcosa di importante. Il rumore a vedere stamattina c'è stato un grande atteggiamento con la consapevolezza che con tante difficoltà che abbiamo avuto e che comunque forse mica partita dove effettivamente è stata quella di domenica, però è inutile stare su un partito anche che servono a far capire comunque dopo i tanti alibi che ci possono essere che sicuramente domani è un'altra partita e c'è subito la voglia di riscattare questa brutta prova. Diciamo che fanno parte di questo lavoro e penso che chiaramente dopo la prova di domenica è stata una prova che le critiche ci possono stare, comunque è stata una prova brutta, è stata una una prova brutta come mai era capitata in queste 23 partite. Può capitare in un anno un fatto isolato, lo lasciamo e ripartiamo da domani perché il bello del calcio è questo che la settimana dopo c'è sempre la possibilità di riscattarsi da una prova non all'altezza di quelli che siamo noi, con il fatto che comunque questa squadra ha sempre dato tutto e continuerà a dar tutto con un piccolo incidente di percorso. Svolta pagina affrontiamo comunque, ripeto, come una squadra molto importante dove a gennaio ha fatto delle cose altrimenti importanti, quindi con tanto rispetto noi pensiamo a noi e a fare quello che dobbiamo fare. L'andata è stata una bella partita equilibrata dove noi penso che fondamentalmente per quello che avevamo espresso su tutti i profili e quindi avevamo meritato e abbiamo vinto. Più che sperare, io sono consapevole che domani faremo un'ottima prestazione e sperando di avere anche magari quel pizzico di buona sorte che in altre prestazioni che abbiamo fatto ci è mancata piuttosto che poi dovremmo dimostrarlo tutto come sempre sul campo. Promettiamo come sempre, come è stato poi dall'inizio, da quando abbiamo iniziato il ritiro, il massimo impegno, chiaramente cercando di migliorare delle cose che forse mancano e di continuare a fare quello che stiamo facendo possibilmente cercando di fare ancora meglio. Grazie a tutti.